In costruzione adesso, la zona è interessante, però ho detto che mi siamo rimasti d'accordo che mi diano le metrie, le guardo, le studio e poi do il mio giudizio. Adesso è veramente un cantiere a piatto, il signore dice questo è mio, questo è mio, da lì arrivo io, fatemi le piante e vediamo. Certo, si era parlato anche della possibilità di visionare lo stadio di Venticano e di Montefalcione, sempre come sedia alternativa, li ha già visti? Sì, Montefalcione l'ho visto, sì, l'ho visto, stiamo valutando, io non ho ancora deciso nulla, il Presidente è lo stesso, adesso dobbiamo vedere, mi devono arrivare queste piante che ad oggi non mi sono ancora arrivate, faremo la valutazione e poi credo prestissimo il Presidente dovrà decidere. Sarà comunque un impianto con i tubolari, insomma, smontabile? Sì, penso di sì, almeno una parte, quello che si è pensato era di lasciarne una parte fissa, dipenderà anche dalla destinazione che avrà in futuro, ripeto adesso siamo proprio in una fase embrionale e qualsiasi cosa dicessi, deve essere smentita perché dipende, uno dal luogo e una volta determinato il luogo stabilire dopo l'utilizzo dell'avvillino calcio che utilizzo a parte, se ci giocherà la femminile, se ci giocherà i ragazzi oppure no, dipende. Altro passo fondamentale, Architetto, è l'appuntamento del 17, questa prima conferenza dei servizi? Eh certo, quello sia importante, insomma noi siamo abbastanza tranquilli, nel senso che ho visto, come avete letto, insomma grande collaborazione da parte di tutti, grande disponibilità, tra l'altro persone anche molto competenti e molto attente, c'è stato un bellissimo dialogo, adesso sono infattato tra tutti, quindi sono fiducioso.